Salve, io sono Pietro Di Lorenzo, responsabile di SSTrader. Vi do il benvenuto a questo videocorso che fa da appendice al corso che abbiamo tenuto il 22 marzo a Napoli. All'interno di questo videocorso cercheremo di sviluppare gli argomenti di maggior interesse che abbiamo affrontato durante il corso fisico e chiarire meglio quegli argomenti che non sono del tutto chiari o piuttosto approfondire quegli aspetti che sono risultati più interessanti. Come sempre l'invito è quello di suggerirmi gli argomenti che non vanno approfonditi, gli argomenti che abbiamo trattato durante il corso e che vanno approfonditi e questo è possibile farlo scrivendo una mail a info at sstrader.it e sarà a mia cura nel prossimo video che si terrà il 12 aprile affrontare i temi che voi mi suggerirete. Nel precedente video, il video di venerdì scorso, abbiamo approfondito in particolar modo il discorso Robin Tax, mi sono arrivate diverse mail, in verità alcune anche preoccupate perché avevo fatto un accenno a quella che era la normativa europea che dovrebbe essere recepita dagli 11 paesi che si sono detti disponibili a una cooperazione rafforzata, ovvero applicare la stessa norma emendata su base europea in questi 11 paesi. In realtà come ho più volte chiarito, questa è solo una bozza di lavoro e credo che da qui a renderla operativa ce ne vorrà e non è affatto detto che la forma che ho illustrato nel precedente video poi sia effettivamente quella definitiva. Indubbiamente sarebbe un colpo importante per tutti i mercati finanziari in quanto sarebbe molto più estensivi e quindi vincolanti rispetto alla Robin Tax attuale. Ricordo poi, e probabilmente su questo non mi sono soffermato a sofficienza, che la Robin Tax italiana è in vigore per il momento solo sui titoli azionari o meglio sui titoli italiani azionari a maggiore capitalizzazione, mentre sui derivati lo start è previsto per il primo luglio, quindi ad oggi i derivati sono ancora free to Robin Tax. Per quanto riguarda invece le altre principali domande, in verità le domande soprattutto sono arrivate su singoli titoli, mi chiedevate l'analisi di singoli titoli, in realtà ritengo questa non sia la sede giusta per le analisi operative, qui mi piacerebbe più fare un approfondimento didattico, ma in due parole per quanto riguarda le strategie operative, ritengo che il mercato italiano si attraversano una fase di debolezza piuttosto evidente, il supporto in area 15.500 ha purtroppo ceduto e quindi nonostante ieri ci sia stato un tentativo di rimbalzo, la BCE in qualche modo ha spento tutti questi entusiasmi, in mattinata si parlava anche, Bloomberg ha battuto anche una news che in qualche modo lasciava anticipare dei cambi di strategia di politica monetaria da parte di Draghi, cosa in realtà non è venuta, Draghi si è mantenuto piuttosto prudente e ha oltretutto ridotto sostanzialmente le stime delle eurozona nel 2013 e quindi tutto sommato il mercato è rimasto piuttosto eluso e non è riuscito a trovare lo spunto per risalire, guardando poi banalmente un grafico settimanale ci si rende conto che il mercato italiano si sta avviando a chiudere l'ottava settimana negativa nelle ultime nove e questo in qualche modo dimostra quanto la lettera sia presente sul nostro indice, a differenza invece di quanto succede su alcuni mercati principali come ad esempio i mercati americani che sono un passo ai massimi assoluti e piuttosto al mercato giapponese che è su del 20%, di oltre il 20% all'inizio anno, così come vediamo, se guardiamo, se confrontiamo il DAX tedesco con l'indice italiano, sicuramente vediamo un gap di forza relativa da parte del nostro mercato che non lascia auspicare francamente nulla di buono, quindi sostanzialmente per il momento fin quando il quadro politico sarà così fumoso e poco chiaro sul nostro mercato mi sembra che sia prematuro costruire delle posizioni longa e lo stesso di casi per i titoli bancari che sono stati quelli più richiesti via email, in particolare ho letto tante richieste e informazioni su MPS e anche qui questo testimonia il fatto che spesso l'investitore privato è ingolosito da titoli che scendono tanto, cosa secondo me sbagliata, nel senso che se dei prezzi sono scesi tanti non vuol dire che non possono continuare a farlo, quindi acquistare un titolo per il semplice fatto che i prezzi sono scesi nell'ultimo mese, piuttosto che settimana, il 20% o il 30%, al mio modo di vedere non è affatto una buona strategia. Detto questo e concentrandoci invece più sull'aspetto didattico, ho riscontrato quanto sia obiettivo della maggior parte dei nostri lettori, quello di trovare soluzioni alternative per evitare il pagamento della Tobin Tax e sostanzialmente la via non è stretta così come sembra, in quanto la Tobin Tax va a colpire solo i titoli italiani a maggior capitalizzazione, quindi le strade per evitare il pagamento della Tobin sono sostanzialmente tre, la prima è quella di fare trading su titoli non italiani o meglio su titoli negoziati su mercati dove non è ancora presente la Tobin Tax e quindi ad esempio il mercato tedesco piuttosto che quello americano, su questi titoli anche portandoli nel multi day il trading è free Tobin Tax, la seconda strada potrebbe essere quella di fare trading sui titoli con una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di Euro, ricordiamo che su questi titoli l'imposta non è dovuta e quindi le small cap, quindi i titoli a minor capitalizzazione potrebbe essere la seconda soluzione per in qualche modo non incorrere in questa tazza, ma qui ritengo necessario un'assoluta prudenza in quanto titoli con scarsa liquidità presentano un grado di rischio estremamente più elevato, in primis legato allo slippage, ovvero book poco carichi rischiano che il prezzo a cui si va e si viene eseguiti è molto lontano rispetto al prezzo che auspichiamo, soprattutto se si opera con grandi quantità e quindi i titoli sottili vanno presi un po' con le pinze, bisogna entrare con quantitativi piuttosto contenuti e bisogna sempre tenere in considerazione che la scarsa liquidità è un ulteriore elemento di rischio e quindi vanno presi a meno di vedere con una certa accortezza. La terza strategia per eludere la Torbintax è quella di operare all'insadega e questo sarà il tema principale di questo videocorso, visto che anche durante il corso fisico questa era l'operatività che in qualche modo attraeva più l'interesse della platea. Indubbiamente è tipico della mente umana voler avere un risultato positivo a stretto giro e quindi un riscontro immediato alle proprie azioni e questa è una tipica caratteristica dell'intraday che a differenza di un trading multiday che magari sta in posizione due o tre mesi o addirittura anni per raccogliere i frutti, sono potenzialmente necessari solo pochi minuti o poche ore e quindi questa sorta di impazienza nel raggiungere i risultati viene assolutamente raggiunto a questo tipo di trading che però presenta anche delle forti criticità e necessità di una disciplina operativa molto rigida e quindi è un trading non ritengo alla portata di tutti ma solo di chi è capace di controllare il rischio ex ante. In sostanza quindi se il motivo per cui farete trading intraday è solo quello di evitare il pagamento a Tobin Tax non mi sembra affatto una buona idea, è certamente una buona notizia che nell'intraday si è evitato la Tobin ma se è solo questo il momento di un'attività intraday ritengo che sia insufficiente perché per fare trading intraday sono necessarie una certa conoscenza dei mercati, una certa dimestichezza. In ogni caso il meccanismo di pagamento a Tobin Tax prevede una sorta di scansione a fine giornata sul portafoglio, se il portafoglio è liquido quindi sono state liquidate tutte le posizioni prima della chiusura nel mercato, di fatto la Tobin non si applicherà. Questo ricordo è un meccanismo valido solo per le azioni per quanto riguarda i derivati la cui applicazione entrerà a partire dal primo luglio, invece la Tobin Tax verrà pagata anche nell'intraday e sia da chi acquista sia da chi vende, invece ricordo che sulle azioni la Tobin Tax si paga solo per chi acquista, quindi non si paga due volte ma solo in fase di acquisto. Sostanzialmente quindi i vantaggi principali del trading intraday sono a mio modo di vedere legati anche a un elemento empirico, quello che molti sanno è che la stragrande maggior parte di investitori privati perde denaro, alcune statistiche addirittura parlano del 90% e il motivo per cui a mio avviso la maggior parte dei trader privati di fatto in qualche modo logra o perde buona parte del capitale, non è tanto legato all'incapacità di scegliere i titoli, ma è dovuto soprattutto a delle scadenti strategie di money e risk management che in qualche modo conducono a chiudere troppo rapidamente le posizioni in guadagno, invece a lasciar correre in maniera incondizionata le perdite, quindi diventano piano piano delle piccole perdite, diventano delle perdite più importanti dalle quali naturalmente diventa difficile uscirne per un non semplice principio matematico, nel senso che se uno parte con 100 Euro e perde il 50% del capitale, per tornare ai 100 Euro originari non è più sufficiente una performance del 50% perché se fate il più 50% su 50 Euro arriverete a 75, ma sarà necessario raddoppiare il capitale, questo è il motivo per il quale è assolutamente, la prima regola di un trader di successo è quella di non intaccare il capitale, di salvaguardarlo il più possibile e di stare alla larga dalle grosse perdite. Uno dei vantaggi del trading intraday è che chiudendo le posizioni e quindi evitando di portarle overnight, si evita sostanzialmente di rimanere incastrati in quelle posizioni che poi generano per certi versi brutale statistica per la quale la maggior parte degli investitori perde soldi, quindi chiudere tutte le posizioni intraday vuole dire di fatto che ogni giornata è storia a sé e che quindi non ci si può imbattere in quelle condizioni per la quale si tengono mesi e mesi i titoli in portafogli gravati da perdite sempre più elevate nel timore nel, come dire, per voler procrastinare quel momento doloroso in cui effettivamente la perdita si consolida. Quindi uno dei vantaggi del trading intraday è di vedere che evita che le piccole perdite diventino perdite ingestibili, perché in ogni caso la posizione va chiusa in giornata e quindi non si possono fare quei pasticci che tante volte capitano all'investito privato che si trova in portafogli con magari titoli bancari con prezzi di carico del 40-50% più alti rispetto ai valori attuali o addirittura per i più coreacei si trova in portafogli magari titoli acquistati anni fa come, che so, Tiscali piuttosto che sia pagine gialle che hanno perso ormai il 90-95% del tuo valore e quindi sono sostanzialmente un investimento che ha di fatto alzerato tutto il capitale investito. Quindi col trading intraday chiudendo necessariamente la posizione a fine giornata non si può incorrere in questa fattispecie sembra un elemento irrilevante ma se pensiamo che la prima causa del fallimento della maggior parte dei tredi è proprio questa, di fatto stiamo eliminando il primo motivo per cui la maggior parte dei tredi attivati fa disastri. Un ulteriore elemento da non considerare, uno dei grandi vantaggi del trading intraday è che spesse volte tenere le posizioni durante la notte o per diversi giorni in qualche modo non libera l'investitore, non libera la mente dell'investitore anche quando i mercati sono chiusi, quindi quello che succede è che se io ho portato un portafoglio di titoli in overnight e il mercato italiano tipicamente chiude alle 17.30, comunque avrò quello stato di ansia, di preoccupazione, di scarsa serenità anche dopo la chiusura dei mercati perché magari inizia a seguire quello che succede a Wall Street, mercato che chiude alle 22 e quindi quella componente di stress che alle 17.30 si chiude, si opera sul mercato italiano in qualche modo va avanti e per certi versi anche è peggiore, perché se ad esempio vedo in portafoglio tante posizioni lunghe e vedo che improvvisamente Wall Street crolla, subendo uno stato di stress anche dovuto al fatto di non poter fare nulla per modificare lo stato delle cose in quanto naturalmente il mercato è chiuso e quindi viverò la nottata con una condizione di ansia immaginando un'apertura molto negativa nel mercato italiano e quindi questo è sicuramente uno stato emotivo da evitare perché tutti noi sappiamo che i mercati finanziari devono produrre non ansia, non stati danni negativi ma piuttosto un reddito aggiuntivo e quindi tutte queste emozioni negative vanno limitate il più possibile. Con il trading in today questo succede perché a fine giornata la giornata è come se noi azzerassimo tutto quello che è successo, è come se chiudiamo la sala cinesca e non abbiamo più pensieri rispetto a quella che è stata la giornata, perché la giornata è ormai andata e non ci sono strascico posizioni da gestire nel giorno successivo e quindi si può vivere la parte di giornata in cui non c'è mercato in assoluta preoccupazione e lo stesso dicasi per il weekend e quindi si possono vivere 48 ore in assoluta come dire serenità. Per quanto riguarda invece l'elemento di immediato riscontro ne abbiamo accennato prima, mentre una posizione acquisita nel medio e lungo termine per produrre un risultato che sia positivo o negativo necessite di alcuni giorni, settimane o addirittura mesi, nel trading in today il riscontro è immediato. A fine giornata vediamo immediatamente se il numeretto è positivo o negativo del saldo del conto e quindi del saldo della giornata e questo sicuramente è un elemento che può essere un'ottima motivazione nel brevissimo termine e quindi può dare una soddisfazione più legata al breve termine. Ultimo ma non ultimo dei vantaggi, forse uno dei maggiori del trading in today è quello che i tanto vituperati stop loss sono degli strumenti che consentono di ridurre la perdita, ma ricordo che questa è un'attività che può essere fatta solo quando i mercati sono aperti, quindi se ad esempio io acquisto il titolo unicredito a 3,50 euro e fisso uno stop loss che ne so sono a 3,40 euro perché non voglio perdere più del 2,5% sul singolo titolo, ma per sfortuna il titolo apre a meno 6 magari a 3,20 e quindi la mia strategia di risk management salta perché se i titoli aprono con un gap down molto elevato, quindi con un prezzo di apertura molto più basso rispetto al prezzo di chiusura della giornata precedente, non c'è stop che tenga in quanto il mio stop del 2% salta, in quanto il prezzo di apertura è molto più basso rispetto al mio livello di stop e quindi di fatto la strategia di risk management perde di significato, quindi i stop loss che consentono di contenere il rischio sono strumenti straordinari, ma sono in grado di proteggere del tutto l'investitore solo quando le contrattazioni sono aperte, quindi nel trading intraday possiamo avere una protezione assoluta in quanto facciamo non portando overnight, non abbiamo questo rischio di gap sia favorevole che anche sfavorevole e quindi a meno che non succedano dei movimenti piuttosto inconsueti come delle sospensioni del titolo alle contrattazioni, cosa che avviene in verità piuttosto infrequentemente, siamo piuttosto sereni e garantiti che la perdita che abbiamo pianificato ex ante sarà effettivamente un livello raggiunto il quale la posizione si chiuderà e quindi il trade non potrà generare una perdita superiore a quanto noi abbiamo pianificato. Quindi questi sono i motivi principali per cui il trading intraday può avere senso aggiunti a quelli da cui il discorso è partito, ovvero anche quello di evitare il pagamento della Tobin Tax. Non solo elementi positivi, naturalmente c'è da considerare che nel trading intraday ci sono anche delle difficoltà, in primis ci sono i falsi segnali che aumentano tanto più si riduce il time frame dell'operazione, quindi i falsi segnali sono più frequenti se si opera su grafici a 5 minuti piuttosto che su grafici giornalieri in quanto il cosiddetto rumore del mercato, ovvero i sostanziali falsi segnali sono più ricorrenti quando i time frame sono ridotti. Inoltre per fare il trading intraday è necessaria una grande freddezza, una grande capacità di contenere le proprie emozioni perché capita a tutti e può capitare anche di frequente di incorrere una serie di trade negativi consecutivi e questo certamente può destabilizzare a livello emotivo, si fa il trade successivo non con lucidità ma con l'unico obiettivo di recuperare le perdite che fino a quel momento erano state in qualche modo generate, quindi ci vuole necessario per fare il trading intraday una grande stabilità emotiva, bisogna evitare di farsi prendere da emozioni diverse rispetto alla razionalità e quindi tipicamente se si ha un carattere con un forte egg oppure un carattere che in qualche modo poco riesce a assorbire le perdite c'è il rischio di andare in overtrading, c'è di fare tante operazioni semplicemente con l'obiettivo di recuperare magari la perdita delle prime operazioni in giornata e quindi anche qui la caratteristica comune che ho riscontrato ai migliori trader intraday che ho conosciuto è una grande serenità emotiva, è anche una sorta di stacco dall'esito del singolo trade che non è dovuto al disinteresse rispetto all'esito della giornata, ma è dovuto alla consapevolezza che giornate storte piuttosto che trade storti fanno assolutamente parte del gioco e quindi dopo un trade storto, un trade chiuso in perdita piuttosto che una giornata è chiusa in perdita, non c'è da turbarsi più di tanto perché tutti noi sappiamo che il trading è un mestiere nel quale la perdita è un elemento fisiologico e i migliori trader non sono quelli che non perdono mai, ma quelli che hanno la capacità di gestire e in qualche modo di controllare la perdita in maniera rigorosa e puntuale. Per quanto riguarda invece un'ulteriore criticità del trading intraday è quella che necessita di una grande freddezza nel prendere delle decisioni, mentre chi fa trading magari sui grafici giornalieri a mercati chiusi può pianificare il trading con tutta calma nel senso che prima di pianificare una determinata operazione lavorando a mercati chiusi può prendersi tutto il tempo che ritiene necessario, il trading intraday invece lavorando con un mercato che frulla, con un mercato che va avanti non può chiedere in qualche modo al book di fermarsi, di interrompersi perché abbiamo bisogno di pensare alla prossima mossa, ma è necessaria una certa freddezza, una certa capacità di prendere le decisioni in maniera repentina. Tante decisioni e quindi tante sollecitazioni a prendere una decisione nel giro di poche ore o di pochi minuti possono comportare un alto elevato, un elevato grado di stress che nel lungo termine è certamente una criticità importante e che può pregiudicare in maniera significativa le proprie performance nel medio e lungo termine. Quindi anche qui abbiamo visto in aula che tutte le tecniche intraday che vi ho mostrato, che ho mostrato le persone che hanno partecipato al corso fisico, prevedevano ex ante la conoscenza di un livello di perdita massima raggiunta alla quale la posizione si andava a chiudere. Quindi la più grande serenità che si può avere quando si fa trading intraday è conoscere ex ante il costo del biglietto massimo per quel singolo trade. Dico sempre che i trade che si pongono in esse sono sostanzialmente dei tentativi che si fanno, tentativi che anche nel trade meglio pianificato possono andare, possono produrre, possono generare una perdita. Spesso dico che non tutti i trade ben pensati sono trade profittevoli, se così fosse ci sarebbero tantissimi trader miliardari che guarnerebbero miliardi ogni giorno, ma in realtà la componente aleatoria va assolutamente presa in conto. Quindi quello che bisogna fare è semplicemente immaginare due scenari. Il primo è che prezzi vada nella direzione che io auspico e sapere come comportarsi in questa fattispecie. Quindi sapete già come fissare un eventuale take profit, un trading stop o piuttosto una strategia che liquidi parte della posizione in profit e parte la faccia correre ed è importante che questa decisione venga presa già prima che la posizione venga presa sul mercato e quindi bisogna evitare di farsi prendere dalle onde emotive del mercato che ci sballotta di qui e di lì e ci crea solo una gran confusione. L'ulteriore cosa da pianificare è quella di immaginare che i prezzi non vadano come è normale che sia nella direzione auspicata. Vi garantisco che non esiste al mondo un trader che conosce e che va sempre nella direzione giusta, a tutti capita spesso di essere nella direzione sbagliata e quello che bisogna fare è semplicemente poter in essere una strategia che in qualche modo ci chiuda la perdita rapidamente senza troppi danni e poi si passi con grande serenità all'implementazione di un nuovo trade. Quindi anche qui un trade fatto solo sull'emotività, solo sull'emozione del momento provoca grande stress e viceversa un trading intraday gestito con grande strategia, con livelli di stop loss già pianificati ex ante, strategie di money management già conosciute prima di entrare in posizione invece comportano un grado di stress molto inferiore. Ultima criticità del trading intraday può essere quella di essere costretti a guardare tutti i giorni il mercato e questo naturalmente inibisce l'implementazione e lo svolgimento di un'altra attività lavorativa principale che può dare reddito e questo certamente è una criticità perché è evidente che fare trading insieme a un'altra attività è certamente una buona notizia perché comunque si ha dall'altra attività un reddito più o meno certo e questo anche a livello emotivo è certamente un grande vantaggio. Vedremo però che anche questa formazione può essere in qualche modo limata e modificata, vedremo poi magari nel finale di questo video corso come il trading intraday che immagino io l'ho in qualche modo ribattezzato prime time trading, prime time vuol dire il momento più caldo del mercato, il momento migliore, tutti noi sappiamo che il trader intraday va a caccia di volatilità, cioè va a caccia di quei movimenti in grado di generare uno strappo di prezzo repentino, cioè un movimento di prezzo repentino nel giro di un tempo molto ridotto. Quello che noi vediamo facendo trading sul mercato italiano è che sostanzialmente ci sono delle fasi di traccheggio, delle fasi sostanzialmente in cui ci sono scarse volume e scarse volatilità, che nelle quali in qualche modo non vale neanche la pena prendere posizione, perché si rischia solo che l'illiquidità genera dei falsi segnali e quindi si rischia solo di fare dei particci a meno che non si vada proprio per il tic oppure proprio a scalpare il book in maniera rapidissima, ma quello è un altro tipo di operatività che oltretutto non è affatto facile anche in virtù dell'high frequency trading delle famose macchinette che sicuramente rendono la vita difficile a chi vuole andare a scalpare il tic. In ogni caso magari dopo ritorniamo su questo concetto di prime time che sostanzialmente consiglia di operare solo in alcune fasi del mercato, che sono sostanzialmente l'apertura, quindi dalle 9 alle 10 e poi l'apertura di questo sito o la pubblicazione di dati macro importanti, i dati macro americani importanti che di solito i più importanti sono alle 14.70, quindi anziché rimanere tutti i giorni incollati al monitor l'idea potrebbe essere quella di dedicarsi al trading solo in alcune minute, alcune ore del mercato e poi nel resto della giornata dedicarsi ad un'altra attività lavorativa che può produrre reddito. Magari su questo argomento torniamo in seguito, sul finale, ma torniamo brevissimamente sul concetto di trading intradivi fatto con delle regole. Le regole, ovvero delle particolari configurazioni che sono dette anche partner di prezzo, sono certamente una condizione imprescindibile per non fare quello che chiamiamo trading con l'ansia, cioè entrare in posizione sulla base della sensazione e poi andare avanti a botte d'ansia. Il partner trading è sostanzialmente un trading molto più schematico, molto più razionale, nel senso che si aspetta la formazione di una particolare configurazione dei prezzi, che nel passato ha garantito delle buone probabilità di successo e si entra in posizione solo quando si attiva il partner, quindi si attiva una particolare condizione di prezzo. Abbiamo visto in aula quali sono i pattern su cui amo lavorare più frequentemente, abbiamo visto per esempio il pattern pullback e abbiamo visto come questo pattern su una candela a 5 minuti necessita di circa una mezz'oretta di tempo per formarsi e io sostanzialmente quello che posso fare è tenere aperti un po' di grafici e entrare in posizione solo quando individuo quel pattern piuttosto che un altro. Questo è un tipo di operatività che in qualche modo elimina tutta quella componente emotiva e discrezionale e mi consente di pianificare il trade in maniera più razionale. Abbiamo visto che ogni pattern ha la sua way out, quindi al suo punto di uscita naturale, raggiunto il quale la posizione va chiusa o con una piccola perdita o con un guadagno che è certamente molto più elevato rispetto alla perdita. Quindi sostanzialmente il vantaggio del pattern trading, quindi quello di attendere particolari configurazioni per intervenire e che impedisce di fatto a intervenire sulla base di sensazioni, di umori o di qualsiasi altro elemento che non abbia la razionalità alla base. Ho visto che tantissimi trader intraday fanno magari 10 operazioni buone alla giornata e con una sola operazione fatta in preda all'avidità piuttosto che alla sensazione del momento sono in grado di bruciare i guadagni in un'intera giornata semplicemente facendo un errore dovuto alla frettolosità oppure al momento in cui si vuole mettere la cileggina sulla torta della giornata. Allo stesso modo ho visto come tanti trader intraday che magari iniziano la giornata con delle perdite non attendono più i pattern per operare ma iniziano a entrare e uscire dalle posizioni con il solo obiettivo di recuperare la perdita generata nella prima parte della giornata e anche questo non fa che produrre grossi disastri. Il pattern trading è sicuramente un modo per contenere la propria emotività, consente di entrare totalmente sia su pattern configurazioni rialziste e ribassiste, ricordo che la condizione è indispensabile per fare trading intraday in maniera profiga quella di operare sia a ribasso che a rialzo e consente di diversificare in quanto alla fine si vanno a prendere posizioni su tanti titoli, su tutti i titoli che hanno disegnato un pattern e oltretutto ogni pattern può essere integrato con un proprio indicatore piuttosto che con ulteriori filtri discrezionali e quindi tanto più sono i segnali convergenti nella stessa direzione, tanto più sarà significativo e valido il segnale di acquisto o di vendita. La domanda che è arrivata naturalmente come sempre in aula è quella di indicare quelle che fossero le configurazioni di prezzi, i pattern più profiqui in assoluto, ma purtroppo non esiste una risposta a questa domanda in quanto se esistesse il pattern magico, il pattern che funziona sempre, naturalmente tutti utilizzeremmo solo quello. Quello che invece si può fare è avere una sorta di cartuccere, una sorta di cassetta degli attrezzi nella quale abbiamo dentro una serie di pattern e l'abilità, la differenza poi sostanziale fra un trader vincente e un trader perdente è quella di utilizzare il pattern giusto nel momento più opportuno, quindi non esiste il pattern buono per tutte le stagioni, sta alla discrezionalità del trader avere la capacità, la sensibilità, il talento per utilizzare la configurazione giusta nel momento più opportuno. Quindi la condizione qua non è quella di conoscere tante configurazioni di prezzo che nel passato hanno garantito una aspettativa matematica positiva, ovvero che nel passato, se implementata da ieri e nei precedenti 5-10 anni avrebbero generato dei profitti consistenti. Il fatto però che una configurazione sia stata profittevole nel passato non è affatto garanzia che lo sia nel futuro, ma sposta leggermente le probabilità di successo dalla nostra parte. Quindi una volta costruito un proprio set di pattern sui quali si affiducia, sui quali si assereni, può stare a noi scegliere quello migliore nel momento giusto, ma in ogni caso il pattern trading è sicuramente una modalità di trading preziosa, in quanto soprattutto scorpora da un trading fatto sulle emotività, sulle sensazioni, sulle razionalità, che è un trading che sicuramente non porterà risultati interessanti. Chiuderei con il concetto di prime time, ricordo che questo è un nuovo modo di lavorare, che ho deciso oltretutto di mettere in pratica e quindi di metterla alla prova dei mercati, perché spesso dei concetti teorici alla prova dei mercati perdono di efficacia. La cosa che invece ho voluto provare, ho voluto dimostrare, è che questa filosofia di trading è sempre una filosofia di trading, come dire, scarsamente interessante, perché di fatto quello che si fa è operare solo nella prima ora di contrattazione. L'idea è quella che vi anticipavo prima, quindi di non dedicare tutta la giornata al trading, questo perché ho potuto riscontrare come se non si ha un carattere giusto, se non si ha un certo talento, spesso più ore si sta davanti al monitor e più il tasso di efficienza diminuisce. Con questo tipo di operatività invece quello che andiamo a fare è fare una sola operazione al giorno, dalle 9 alle 10 e la caratteristica di questa operatività è di acquistare una sola azione e di chiuderla a fine giornata, per il motivo che anticipavo prima, quindi per evitare di incorrere nel pagamento della Tobin Tax, quindi la posizione sarà sempre chiusa nell'intraday e quindi in qualche modo conferma quanto dicevamo prima, ovvero l'operatività intraday presenta, diciamo, fra i vantaggi che presenta c'è quello di avere delle perdite piccole e conosciute ex ante, infatti la caratteristica comune di tutti i trade che vengono implementati è quello di non superare una perdita maggiore dell'1% circa, quindi ogni volta che si entra in posizione avremo la certezza che il trade, a meno che non ci siano svippe e giocamorosi, non perda più dell'1% di quanto investito. Seconda certezza è quella di non incorrere la Tobin Tax in quanto la posizione verrà chiusa in ogni caso nell'overnight e ulteriore, diciamo, elemento è quella che in corso d'opera vengono talvolta comunicati dei livelli di trailing stop, livelli che consentono di evitare quella fastidiosissima fattispecie nella quale un profitto virtuale diventa una perdita reale, questa è una fattispecie in cui molti, credo tutti, siano in corso almeno una volta, è una fattispecie estremamente dolorosa non solo a livello economico, quindi a livello finanziario, ma anche a livello emotivo, perché magari si è vista tutto il giorno la posizione in guadagno e poi per uno storm improvviso, cosa che oltretutto nei mercati attuali succede molto di frequente, un cambio di reazione repentino, come c'è stato ad esempio nella seduta di giovedì in cui prezzi hanno sempre gravitato in territorio positivo e poi hanno avuto una brutale inversione a seguito della pubblicazione, della conferenza di Draghi e quindi di non incappare in questa fastidiosa fattispecie nella quale un guadagno virtuale poi di fatto si consolida in una perdita reale in quanti prezzi vanno in una direzione a noi contraria, quindi talvolta viene fissato questo telling stop e tutto viene comunicato via sms proprio per consentire a chi non ha voglia, flash, tempo di rimanere tutto il giorno davanti al computer, di poter implementare e poter clonare questa operatività anche attraverso il proprio smartphone piuttosto che tablet o comunque uno strumento in mobilità in grado di ricevere sms, quindi la caratteristica principale è quella di inviare un solo segnale nella prima ora di contrattazione, solitamente il segnale arriva nella prima mezz'oretta, quindi bisogna restare attenti solo nei primissimi minuti, naturalmente il segnale arriva via sms e può essere sia long che short e se non viene incrociato né un telling stop né un target la posizione va chiusa in asta di chiusura, anche qui la maggior parte delle banche offre l'opportunità di una chiusura coattiva in asta e quindi non c'è bisogno fisicamente di essere presenti alle 17.25 a chiudere la posizione perché se si setta la posizione con le marginazioni in tradei il nostro intermediario in automatico chiude la posizione, lo fa d'ufficio e la stragrande maggior parte non applica nessuna penale per la chiusura in tradei e quindi presenta non solo il vantaggio di non pagare la Tobin Tax ma anche il fatto di non dover essere presenti fisicamente e chiude la posizione in asta di chiusura. Questo è un servizio che ormai è operativo già da due mesi e che sostanzialmente si focalizza solo sui principali azioni del Fuzzimib e che in qualche modo era una sorta di, non dire sfida ma insomma di dimostrazione come il trading intraday non era necessariamente dedicato a persone con altissima propensione a rischio, chi aveva voglia, tempo e disponibilità a rimanere attaccato davanti al monitor tutte le ore del giorno, sobbarcando su un grado di stress elevatissimo, ma questo è un modo alternativo per fare trading intraday che consente di raggiungere un grande numero di obiettivi, in primis quello di evitare l'overnight, evitare l'overnight abbiamo detto che non solo è un ottimo, è una modalità con cui si evita di pagare la robin tax, ma anche una modalità con la quale si tengono sempre sotto controllo le posizioni e si evitano che si prendano delle perdite molto grandi dovute a una sorta di inerzia nel chiuderle. Inoltre un'ulteriore garanzia che diamo è che se il servizio non genera dei risultati positivi, sostanzialmente il costo di abbonamento si sparma su più mesi, in quanto se nel mese non si sono raggiunti profitti, l'abbonamento viene allungato a questo servizio prime time, viene allungato gratuitamente per un ulteriore mese, quindi se nel mese non si raggiungono i risultati, l'abbonamento del mese successivo è sostanzialmente gratis. La caratteristica migliore però è quella di fare solo trade in cui la perdita è conosciuta ex ante, quindi insieme all'SMS col segnale di ingresso viene contestualmente inserito anche un livello di stop loss, livello di stop loss che sarà sempre intorno all'1%, quindi si rischia una parte molto piccola del capitale e questo secondo me è la garanzia migliore per avere successo sui mercati, perché se ad esempio facciamo una strategia banale in la quale perdiamo al massimo l'1% e invece nei trade positivi guadagniamo ad esempio il 3%, anche se chiudiamo la maggior parte dei trade in negativo, immaginiamo il 70%, quindi su 10 trade prendiamo 7 volte una perdita dell'1%, quindi con un totale del 7% di perdita, ci basteranno 3 trade positivi in cui guadagniamo il 3% per raggiungere il 9% di profitto che ripaga abbondantemente il 7% generato dalle 7 perdite, dai 7 trade chiusi in perdita, quindi la caratteristica focale di questo servizio è di tenere sempre sotto controllo il rischio e di potersi permettere il lusso di una proiettività con un tasso di profittabilità inferiore al 50%, è oltretutto un'operatività che proprio nella sua mission vuole dimostrare come non bisogna essere dei trader particolarmente attivi ed evoluti per fare in 3D in quanto è estremamente semplice, bisogna un fratto che fissare uno stop loss e entrare in posizione con un ordine che si passa al mercato e quindi consente anche al trader part time, a chi vuole svolgere in maniera part time l'attività di trader di raggiungere perfettamente questo obiettivo senza dover rinunciare al reddito magari dall'attività principale e quindi è perfettamente coerente con l'obiettivo che ho da anni, quello di cercare di far comprendere che il trading può essere anche un'ottima eccellente attività parallela rispetto alla propria attività lavorativa principale e che quindi è possibile tranquillamente essere implementato insieme a un altro lavoro e questo è quello che cerchiamo di fare con print time trading, dimostrare che è possibile non solo fare trading in 3D non pagando la top in tax, ma farlo con rischi molto ridotti e non superiori all'1% per il singolo trade, senza la necessità di dedicare l'intera giornata ai mercati, facendola anche in mobilità attraverso uno smartphone o comunque un dispositivo in mobilità e soprattutto lucrando in ogni condizione di mercato, quando il mercato sale, quando il mercato sale, quando il mercato è laterale e farlo con ogni forma, con ogni tipo di capitale, quindi ognuno poi può scegliere di operare col capitale che desidera e questo è anche un'ulteriore flessibilità, a differenza di servizi che ne sono sui future dove è indispensabile comprare almeno un contatto, in questo caso il rischio e quindi la perdita monetaria sarà coerente con i propri obiettivi finanziari e ognuno si può porre un capitale e quindi una perdita finanziaria coerente con i propri obiettivi e con il proprio grado di rischio. Ulteriore elemento di trasparenza è che ogni giorno vengono eseguiti con denaro reale i trade che vengono postati e naturalmente vengono pubblicati ogni giorno sul sito e quindi l'operatività non solo vuole perdere quella caratteristica di pura teoria, ma si vuole in qualche modo essere assolutamente trasparenti e chiari dimostrando che i trade che vengono postati via sms possono tranquillamente essere replicati e questo è il motivo per il quale tutti gli eseguiti reali vengono postati sul sito. Vi mostro l'area nella quale è possibile vedere il track record, quindi tutte le operazioni eseguite con denaro reale, qui ci sono tutte caratteristiche che stanno su open time trading e poi scaricando questo file possiamo effettivamente verificare che tutte le operazioni segnalate vengono implementate con denaro reale e quindi si può seguire in maniera estremamente analitica l'operatività, vedete qui ci sono tutti eseguiti, questo ad esempio è l'eseguito del 4.4 di ieri, un trade su Telecom che è entrato in Telestop, ha generato 49.79 Euro di profitto e quindi qua ci sono tutti i trade riportati, questo per esempio il 2503 su A2A ha generato 248 Euro di profitto e quindi come vedete questo è proprio il print screen del monitor e quindi dell'operazione eseguita realmente. Se poi si vuole un riepilogo di tutte le operazioni effettuate si può scaricare questo foglio Excel e anche qui c'è il dettaglio dell'elenco di tutte le operazioni eseguite e vedete che la caratteristica comune e la caratteristica più importante di questo servizio è proprio quella di limitare in maniera significativa le perdite e quindi le perdite come vedrete non superano o sono diciamo superano di pochissimo il punto percentuale, questo è dovuto a degli slippage, qui c'è tutto lo storico delle operazioni, come vedete il risultato è decisamente positivo ma la cosa più interessante è vedere su questa tabella come i trade in perdita che oltretutto sono sostanzialmente il 50% dei trade perché come vi dicevo un'operatività di questo genere può consentire anche di avere una profittabilità del 50%, la caratteristica principale è che il guadagno medio è decisamente più elevato della perdita media e quindi questo è l'elemento vincente di questo tipo di operatività come è evidente dalle statistiche la maggior parte dei trade viene chiusa anche con delle perdite ma come vedete le perdite sono molto limitate e quasi mai superano un percento e questo è certamente una grossa garanzia mentre guadagni ad esempio raggiungo anche il 5%, il 3% e via dicendo alcune posizioni come vedete si chiudono in pari e questo è quasi sempre dovuto a selling stop, quel meccanismo di cui vi parlavo prima che consente di non trasformare un profitto virtuale in una perdita reale e quindi si cerca di banare anche alla componente emotiva che va sempre come dire tenuta in alta considerazione. Quindi per concludere l'idea di questo video di oggi era mostrarvi come le strategie Inza Day sono certamente una eccellente opportunità per chi ha la capacità di controllare il rischio e per chi ha la freddezza di affrontare i mercati aperti. Il trading Inza Day non è un'attività necessariamente dedicata a tradere espertissime o che hanno la capacità e la possibilità di rimanere attaccati al momento del prodotto dal giorno ma è possibile anche fare trading utilizzando le fasi migliori del mercato e per migliori intendo le fasi più volatili. Quindi in particolare sul finale vi ho mostrato qual è la filosofia del mio trading Inza Day, che è un trading che sostanzialmente prende posizione in apertura e in ogni caso chiude le posizioni e non le porta mai overnight e questo consente un'operatività estremamente serena che non obbliga a lasciare la propria attività principale. Ritengo che per questo video sia tutto, l'appuntamento e l'invito è sempre quello di scrivermi a scrivere info.sst.it per in qualche modo indicare gli argomenti che vogliamo affrontare insieme nel prossimo e ultimo videocorso del 12 aprile e quindi sarete voi che guiderete l'agenda e la scaletta attraverso le domande che mi arriveranno durante la settimana. Vi saluto e vi do appuntamento al video di venerdì 12 aprile.